Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E' finalmente arrivata una buona notizia da parte dell'Inps. Adesso vi dico tutto quanto. Con un nuovo messaggio, il numero 1345 dell'11 di aprile, l'Inps informa della novità che riguarda il nuovo ISEE precompilato online. E nella circolare sono indicate tutte le novità e tutte le istruzioni per l'accesso ai cittadini, quindi noi comuni mortali. Ecco, quindi è finalmente attivo il nuovo sito internet che si chiama Portale Unico ISEE dell'Inps dove è possibile trovare la nuova DSU per l'ISEE, sia quella precompilata che quella non precompilata. Comunque non vi preoccupate perché poi qui sotto nella scheda video vi lascio poi il collegamento diretto al nuovo sito internet. Anche io l'ho già visitato, l'ho visto molto velocemente, non è che sono stato lì a guardare tutte le virgole, però mi sembra fatto abbastanza bene. Devo dire che l'Inps in questi ultimi anni per quanto riguarda i sistemi internet si è data parecchio da fare, quindi da quel lato è stato fatto un buon lavoro. Questo perché, volevo solo ricordare, cioè perché hanno fatto questa novità di questo sito internet della DSU? Perché vi ricordo che con la legge di bilancio del 2023 è stata prevista la scadenza del primo di luglio del 2023, a partire dal quale dicono che la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata. Questa parola prioritariamente vuol dire che è stata data la priorità al fatto che il cittadino se la deve fare in modalità, cioè utilizzare il sistema precompilato, ecco questo vuol dire prioritariamente avviene in modalità precompilata, anche se comunque, ve lo dico, rimane sempre la possibilità di presentare la DSU con il sistema che già conosciamo, quindi andando dal CAF o da un professionista abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni. Perché? Giustamente non è che tutti sono capaci a usare internet con username, password, speed, compila questo, compila quell'altro, scansiona il documento, allega, ricevili, cioè non è che tutti sono così capaci, ecco, quindi loro dicono in via prioritaria viene utilizzata quella precompilata. Poi chi non riesce, chi non ha voglia, chi non ha tempo, chi non è capace, comunque può sempre benissimo andare da un CAF o da un professionista. E quindi cosa si può fare? Diciamo che si possono fare prevalentemente due cose, vedere la DSU oppure si può compilare una nuova DSU. E poi comunque nel sito internet si possono trovare anche tantissime informazioni che riguardano il reddito, i dati anagrafici, le spese, i dati della casa, dell'abitazione, ma di tutte queste cosine qui che vi ho appena elencato che sono una parte, ecco, ho intenzione di parlarne poi all'interno di un video, uno di quei tre video che escono tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, che sono un po' più lunghetti e dove vi spiego un pochino in dettaglio bene tutto quanto. Quindi adesso vi ho detto più o meno come funziona, che cosa c'è, poi vi spiego bene tutto quanto in uno di quei tre video, credo che uscirà poi la prossima settimana perché ho intenzione di mettere questo argomento all'interno di uno dei video della prossima settimana. Quindi l'importante è che voi vi iscrivete al canale, attivate la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le novità. E poi ricordatevi di seguirmi su Instagram, è facilissimo, mi cercate su Instagram, se mi ricordo vi lascio poi il link qui sotto nella scheda del video, così perché me lo state chiedendo in tantissimi, mi dice ma io non riesco a trovarti, mi puoi dare il link, allora faccio che magari lasciarvelo qui sotto nella scheda, così viene più comodo per tutti quanti. Con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre solo sull'unico canale originale di YouTube, il mio, vi aspetto, ciao!